Studenti formichine, attenti al risparmio anche se il grado di conoscenza dei concetti economici è maggiore in relazione agli scrumenti di pagamento di uso quotidiano e molto minore in relazione ai concetti economici legati al futuro, investimenti, pensioni eccetera. Relativamente alla gestione del proprio budget paghetta, il 43% dichiara di avere il completo controllo delle proprie spese e il 62% afferma di valutare attentamente se è in grado di permettersi un acquisto prima di comprare qualcosa. Sono alcune delle risultanze emerse dall'analisi delle risposte al questionario delle competenze con il quale attraverso 18 domande il progetto Economia in classe, promosso da Obiettivo Benessere e da Conf Cooperative, ha cercato di indagare il grado di alfabetizzazione finanziaria dei giovani. Il progetto, realizzato dall'Ufficio Educazione Cooperativa di Conf Cooperative FUG, in collaborazione con l'Associazione Assistenziale Obiettivo Benessere sui temi dell'educazione economico-finanziaria, nell'ambito dei progetti speciali per il potenziamento dell'offerta formativa finanziati dalla Regione Friuli Venezia Giulia, ha coinvolto circa 200 studenti delle scuole secondarie di primo grado di tre istituti comprensivi della Regione. Valussi di Udine, dove si è svolto l'evento pubblico conclusivo, Virgili di Martignacco e Angeli di Tercento.